Venerdì 30 agosto, ben ritrovati il nostro consueto buongiorno con la rassegna stampa, il nostro appuntamento quotidiano del mattino con le prime pagine. Andiamo a vedere anche oggi cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, daremo come sempre un'occhiata ai titoli in primo piano per capire quali sono i temi caldi, gli argomenti affrontati stamane. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano La Sicilia, una ricca prima pagina con tante notizie, tanti temi, il tempo delle mele rosse, questo uno dei titoli. Si abbassa ancora l'età della prima volta, già a 15 anni due su dieci hanno fatto sesso, diminuisce l'uso del preservativo, scarso il ricorso alla pillola del giorno dopo. Si parla tanto dell'assegno unico, non sarà tolto, questo assicura Giorgia Meloni. A proposito della manovra, Meloni che duque smentisce le voci e poi rilancia, difenderò la misura in Europa. La regione siciliana conferma invece fondi europei, 615 milioni saranno dirottati su digitale ed energia, mentre a proposito di emergenza siccità, di crisi idrica, si parla in questo caso di agricoltura, pronti 40 milioni di euro per danni a imprese causate, come detto, dalla siccità. Ius, Scole, Forza Italia insiste e sull'autonomia altre tensioni, oggi il vertice di maggioranza. La cronaca, pagano il pizzo, poi si ribellano e fanno arrestare tre estortori, lotta al racket, operazione tra Catania e Augusta nel giorno della memoria. E dalla città di Libero Grassi due denunce su 200 in Italia, qui chi ricorda mio nonno? In attaglio laterale il naufragio della Beiesian, da domani prime autopsie sulle sette vittime, mentre l'equipaggio lascia la Sicilia. E poi la storia su uno scoglio a Salina per studiare Lucerto, le ricercatori isolati, salvati grazie a un elicottero. Il calcio in taglio alto, mercato Catania, De Rose Inglese oggi la firma, intanto Trantino e Parisi si rivolgono al patron del Catania Pelligra, servono risposte certe. Giro delle città, partendo da Catania, l'arcivescovo Renna ai fedeli sto meglio, e questa è certamente una bella notizia dopo il malore accusato nei giorni scorsi da Monsignor Renna. A Catania ancora, Manolesta, settantenne in azione al fast food, folle gara tra auto invece al porto commerciale di riposto, e infine Giardini Naxos, consorzio, interventi per oltre un milione. Lasciamo la quotidiana alla Sicilia, andiamo a vedere cosa ci propone stamane in prima pagina il giornale di Sicilia, si parla di piogge, si parla di maltempo, ma in questo caso di disagi, di danni causati dal maltempo, ed è una conta pesante e si tratta soltanto delle prime piogge sostanzialmente, ma queste prime piogge, questi primi temporali, hanno in realtà causato seri danni, seri problemi in diverse zone della Sicilia. In questo caso il giornale di Sicilia si concentra su Palermo, fulmini sulle tubature, erogazione idrica ridotta in alcune zone di Palermo e in cinque comuni della provincia. Nel Belice invece distrutti uliveti e vigneti, chicchi di grandine come palline da tennis. Ed è paradossale, in una terra che fa i conti con la siccità, vedete alle prime piogge invece si fanno adesso i conti con i danni. E a proposito di siccità in arrivo dalla regione, 40 milioni per l'agricoltura in crisi. L'intervista al professor Rotigliano che dice la siccità aumenta ovviamente il rischio di frane, il rischio di dissesto, e poi più della metà dell'acqua si perde nell'eretico Labrodo. E questo è certamente un problema da attenzionare. Il tesoro del BOS passa allo Stato, beni per 150 milioni, confiscato il patrimonio di Andrea Impastato. E poi trasporto pubblico nell'isola, istanze entro ottobre, si parla di un bando da 883 milioni. La questione rifiuti, le guide turistiche segnaleranno i disservizi, accordo con la RAP a Palermo. E poi il naufragio del veliero nelle acque del Palermitano, l'inchiesta ovviamente in corso, prime autopsie fissate per la giornata di domani. Ieri è stata una giornata importante, una giornata di commemorazione e ricordo, Pizzo c'è ancora connivenza, la denuncia arriva da Davide Grassi, nipote di Libero Grassi, durante la commemorazione di Libero Grassi, ucciso dalla mafia nel 91. Anzi, Davide Grassi è il figlio di Libero Grassi, mentre in questa foto vedete anche da sinistra a destra anche Alfredo Chiodi, che in realtà è lui il nipote di Libero Grassi, e poi altre personalità anche tra gli assessori, l'assessore regionale Scarpinato ad esempio, che hanno preso parte a questa giornata così importante. Il calcio con la nuova Champions League, Juve-Inter se la vedranno con il Manchester City, e poi la mostra del cinema di Venezia, Leopardi rivive nella serie Rai di Sergio Rubini. E ancora si parla, vedete, dell'assegno unico, Meloni e Giorgetti smentiscono i tagli, alta tensione però nella maggioranza. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, restiamo nell'isola con la prima pagina della Gazzetta del Sud, questo il titolo in apertura, l'argomento di apertura, fondi per il digitale e l'energia. La giunta a Schifani riprogramma il Festra Sicilia in linea con il regolamento STEP dell'Unione Europea. Nuove tecnologie, 615 milioni da destinare alla promozione di investimenti. E poi purtroppo la cronaca ancora a sangue sulle strade siciliane, uno scontro sulla statale 113 e muore un operaio di Sant'Agata. Il tutto è avvenuto a Capodorlando, il 55enne poi è morto dopo il trasporto in ospedale. Giorgia Meloni, non aboliremo l'assegno unico. Dopo una giornata di polemiche, la Premier difende la misura che sarà rimodulata anche dai rilievi dell'Europa. Estenderlo ai lavoratori immigrati è come ucciderlo, pronti a dare battaglia. Queste le parole della Premier Giorgia Meloni. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere l'edizione di Palermo della Quotidiano La Repubblica. Si parla, tra le altre cose, del naufragio della Bayesian, l'equipaggio lascia l'Italia, i nostri giorni sofferti con gli spettri del naufragio, gli ultimi marinai partiti con un jet privato, via dall'Italia anche gli indagati, i racconti di chi ha convissuto con loro nell'hotel, gli abbiamo regalato vestiti e biancheria. Intanto prosegue, oltre all'inchiesta, chiaramente anche proseguono le operazioni di recupero del veliero infrarossi e barriere galleggianti per il relitto in fondo agli abissi e bisogna evitare, abbiamo visto nei giorni scorsi, anche un disastro ambientale, dunque bisogna appunto recuperare il relitto. Guardate un po' questa notizia, invece pioggia nera su Melilli, qui respiriamo di tutto, vogliamo la verità, questa è la preoccupazione dei cittadini, l'incidente al petrolchimico ripropone il conflitto di interessi salute-lavoro, sequestrato un impianto, guardate questa immagine con queste macchie nere, vedete, sulle automobili, dunque questa pioggia nera caduta sulla città. E poi a Palermo, la ritirata dell'antiracket su 200 denunce in Italia, soltanto due da qui, queste vedete le parole della prefetta Maria Grazia Nicolò su 200 istanze di accesso al Fondo Nazionale per le vittime di racket, solo due arrivano da Palermo, dice la prefetta, una per usura e una per estorsione. E poi eventi, il festival fotografico, 15 mostre a Ragusa per raccontare il tempo lento. Lasciamo Repubblica Palermo, andiamo però a vedere la prima pagina del Quotidiano La Repubblica, ovviamente l'edizione nazionale, si parla della manovra dell'assegno unico ed è scontro, vedete proprio sull'assegno, la Premier Meloni attacca Repubblica sulla revisione del contributo per i figli e alle famiglie, diffidate di fantasie e poi accusa l'Europa chiedendo di estendere l'assegno ai migranti, lo uccide, ma l'opposizione in calza venga in Parlamento. E l'ischline, disfano misure giuste, allarme, questione sociale e caro vita, questa è la posizione invece della leader del Partito Democratico, Ellie Schlein. Da Repubblica al Corriere della Sera, politica, Meloni è il vertice di oggi con gli alleati, poche risorse, basta sventolare bandierine e poi la questione armi a Kiev, scontro in Europa, l'Ite in Europa titola il Corriere della Sera, Borrell via i limiti, sanzioni ai ministri israeliani, Budapest parla invece di follia, mentre dall'Italia arriva il no di italiani. Gli ucraini intanto perdono in un incidente il primo F-16 occidentale, Cisgiordania, cinque morti in una moschea. Questo dunque l'appunto della situazione sui due conflitti tra Russia e Ucraina e quello in Medio Oriente. Andiamo avanti con la nostra rassegna, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme stamattina, questa è la prima pagina della Quotidiano La Stampa, vediamo i temi affrontati in primo piano, manovra Meloni frena Matteo Salvini, avviso alla Lega su pensioni e balneari, sgravi fiscali, caccia a 2 miliardi e mezzo, oggi il vertice di maggioranza. L'Italia intanto farà il nome del ministro Fitto come commissario europeo, le sue deleghe resteranno a Palazzo Chigi. In taglio centrale, doppia intervista Io e Harris, intervista con Oprah Winfrey, ovviamente parla di Kamala Harris, la candidata Dem alla Casa Bianca e poi le parole della Jolie, Angelina Jolie, Io e Callas, Angelina interpreterà proprio la Divina. Lasciamo il Quotidiano La Stampa, siamo sulla prima pagina del giornale Colpire la Russia, ma l'Europa, vedete, su questo tema è decisamente divisa, si parla delle armi all'Ucraina ed è scontro. Borrell spinge per i raid a Kiev oltre confine il no arrivato da Budapest. Mentre in Italia il governo smentisce la fake news, non tagliamo l'assegno unico. E ancora il gran giorno di Fitto, l'ultimo balzo del centro sovranista, oggi sarà commissario europeo e poi accuse di stupro ai cronisti anti Meloni, inchiesta sugli inviati di Piazza Pulita e domani il PM chiede di archiviare per loro niente processo mediatico, sottolineano i colleghi del Quotidiano Il Giornale. Lasciamo proprio il giornale, ci spostiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che invece apre con questo preciso argomento nessuna spiegazione agli alluvionati fregati. Il governo tace, lo staff di Lollobrigida non risponde a nessuno. Vittime in Romagna chiedono notizie sui criteri per i ristori ma vedete in vano imprenditore con 80.000 euro di danni io liquidato con una mail e zero rimborsi. Lasciamo anche il Fatto Quotidiano ci spostiamo sulla prima pagina del messaggero Tagli Irpe Falceto Medio i fondi dalle partite IVA Meloni e Giorgetti non aboliremo l'assegno unico. Fitto entrerà invece nella squadra di Ursula von der Leyen chance per diventare vicepresidente lettera a Bruxelles con la candidatura. Centrodestra invece il gran giorno del vertice di maggioranza legge sui balneari e cambia la Bossifini stretta sui flussi e stop allo Juss-Skoll insomma il centrodestra si riunisce per cercare di trovare una linea comune su diversi importanti temi. Armi in Russia arriva il no dell'Italia l'Europa si spacca sulla presa di posizione di Borrell favorevole alla richiesta di Kiev siamo al fianco di Zelensky ma niente utilizzo fuori dal comune ucraino delle armi dice in questo caso il ministro Tajani. La cronaca l'omicidio di Sharon coltellata al petto ha visto l'assassino l'amarezza del fidanzato le porta un fiore ormai è troppo tardi per ritrovare il coltello e poi le paraolimpiadi che sono iniziate in Francia e sono iniziate con le prime soddisfazioni per gli atleti azzurri Gilli e bocciardo due ori speciali azzurri super alle paralimpiadi subito nove medaglie a Parigi e dunque complimenti in bocca al lupo agli atleti che dovranno ancora affrontare le sfide di queste paralimpiadi nelle rispettive discipline proseguiamo con la nostra rassegna stampa la prima pagina del mattino tra le altre cose si parla anche di calcio e del Napoli un Napoli senza paura dice Antonio Conte non voglio vedere passi indietro e per Lukaku metto la mano sul fuoco domani c'è il Parma il Bomber ovvero Lukaku è pronto ultimo colpo di mercato può essere invece il brasiliano Arthur impresa e cultura brand Italia dopo Coca-Cola e Visa è il terzo marchio al mondo con il Made in Sud in 160 paesi il paese che nessuno racconta tutti guardano con pregiudizio positivo al nostro saper fare e poi Atlante da Napoli alla conquista del mondo il capolavoro della collezione farnese rappresenterà l'Italia all'expo di Osaka dalla prima pagina del mattino alla prima pagina di Libero invenzioni sulla manovra la bufala rossa Repubblica spara cancellato l'assegno unico il governo però smentisce falso come lo sbarco dei marziani ma la sinistra se ne frega e continua a spacciare la notizia in taglio centrale saldi estivi di Ellie libri gratis per tutti l'operazione per le scuole richiederebbe un miliardo l'anno questa è la proposta vedete da parte di Ellie Schlein libri gratis per gli studenti ma sotto linea Libero i soldi sarebbero davvero davvero tanti parliamo di sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani ampio spazio al sorteggio di ieri della nuova Champions League vediamo come è andata per le italiane la gazzetta dello sport titola che botti nuova Champions super sfide per le nostre cinque italiane il City per Inter e Juve Real con Atalanta e Milan il Liverpool sulla strada del Bologna e del Diavolo incroceremo Arsenal e Barcellona ma gli ottavi sono possibili insomma grandi sfide in vista per le italiane ma hanno assolutamente la possibilità di passare il turno il Corriere dello Sport presi questo il titolo sempre a proposito dei sorteggi Champions Inter e Juve trovano Guardiola Milan e Atalanta contro Ancelotti una Super Champions con due mostri sacri sulla strada di Inzaghi e Motta si comincia il 17 settembre e chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport anche qui vedete ampio spazio ai sorteggi della nuova Champions League Thiago Pep ti aspetto allo Stadium le avversarie delle cinque italiane Juve Inter contro il City Ancelotti e Chiesa invece per il Milan insomma grandi grandi sfide in vista in bocca al lupo anche alle italiane impegnate in Champions League e in tutte le varie competizioni europee ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa abbiamo fatto e concluso il giro delle prime pagine ma l'informazione lo sapete non si ferma sui nostri canali e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi a 스�imenti a